Sono stati 15 mesi intensi nei quali non ci siamo risparmiati. Dal primo minuto abbiamo detto che la porta del sindaco del comune era l'ultima che poteva chiudere. E così è stato. E abbiamo investito risorse straordinarie. Siamo avvisati a trovare 5 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà. E al tempo stesso abbiamo messo in campo circa 1000 volontari. Grazie a tutti. Teniamo botta, come abbiamo sempre detto, ma adesso dobbiamo correre per rinascere perché vogliamo la nostra città sempre più bella e al tempo stesso sempre più libera. Forza Pesaro, ripartiamo insieme.